quando va tutto bene nessuno si fa domande è quando le cose si complicano che ci chiediamo cosa abbiamo fatto e quest'anno mi sono fatto un sacco di domande ogni notte penso ai motivi per cui ho deciso di venire a Stoccolma ma ti giuro che a volte preferirei non ricordarmeli ma è impossibile non ora perché le cose non si sono complicate si sono infrante adesso so perché sono qui per non commettere un'altra volta gli stessi errori ed evitare che le cose si complichino di nuovo non lo permetterò ciao Raquel abbiamo letto il tuo manoscritto intitolato dalla mia finestra ci è piaciuto molto crediamo sia perfetto per la nostra collezione giovanile quindi ci piacerebbe pubblicarlo il tuo agente Joshua Garcia ci ha fornito il tuo contatto affinché potessimo parlare con te salve sono Joshua Garcia sono l'agente letterario di Raquel Mendoza la mia cliente ha scritto un romanzo ma non vuole inviarlo per paura che le diciate che non siate interessati quindi ve lo mando io perché sono il suo agente e perché vi piacerà di sicuro è un testo pazzesco lo trovate inallegato la protagonista è adorabile quando finite di leggerlo potete scrivere direttamente a Raquel Mendoza e se non doveste ricevere nessuna risposta potete mettervi in contatto con Daniela Fernandez la mia assistente vi scrivo il suo indirizzo di posta elettronica cordiali saluti Yoshi tesoro di sotto c'è un ragazzo che chiede di te un certo Gregory lo faccio salire ehi vuoi che me ne vada? no meglio di no digli che lo chiamo un altro giorno grazie a tutti grazie a tutti